Un altro giorno è inizio. Già sono stanco. A quale giorno della quarantena siamo? Mi pare che questo sia il 30? 41? 43? 43? Beh... Faccio colazione. È la prima volta che mangio questi biscotti. È un nuovo marchio. Dicono che tengono molto bene il latte che assorbono e che è praticamente impossibile che... Ma fa un culo. Con gli occhi ancora infuocati dal sonno, mi tornano in mente tutte le belle frasi che in questi giorni arrivano da ogni dove. Andrà tutto bene. E usciremo più forti di prima. Sì, c'abbè? Ce la faremo! E uscmi? No! No, no! No, no! 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 nostro bambino. In ogni caso stamattina mi sono alzato artista e perciò voglio recitarvi. Ma chi? Sta zitto, voglio recitarvi, dicevo, il canto di Paolo e Francesca. Beh, uno straggio. Il canto di Paolo e Francesca. E poi chi fa il canto di Paolo e Francesca? Beh. Ma che fatti del canto? Zitto. Dunque. Eh, bravo, metto tutti i due mani lato. Un'idea che ti ducca la villa, un'idea che ducca la barba. Lo baffa, è meglio. Sta zitto. Allora, non mi rubo. Mi sono scordato con un bacco mince. Dammi le prime parole. Dammi le prime parole. Fambres. Quali colombe? Quali colombe? Ma quali colombe? Ah, sì. Quali colombe? È l'inizio. Quali colombe? Dal disio chiamate con l'ali alzate. E fermi a dolce. Ma sì? Avrete che non ci può fare niente. Tutto quando hanno fatto vidica, poi sì, eh no? Tutto quando, eh no? Ma non hai? Hai scuso la solidarietà, il contributo, la pace nel mondo? Boh. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.